Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand per la prima volta dopo tanto tempo che abbiamo fatto un video di League of Legends Siamo di nuovo su League of Legends, Jin e Brown in bot, Jin sono io come vedete sto ancora arrivando in lane Molta calma perchè ha dovuto avviare la registrazione BAM! Che bello, colpo critical minion Inutilmente oserei dire anche Perchè inutilmente? Dai adesso iniziano già, come hai messo la schermata lì? Eh l'ho messo a schermata ragazzi devo giocare a finestra perchè sennò non capisco se sta registrando Comunque non mi importa Loro sono già a livello 2 sappilo Loro sono già a livello 2 non importa E quella è Sona E quella è Sona E quella roba le balle Eh solito ho una sberla aspetta eh Gli ho dato una sberla Ma poco 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 sberla Poco sberlosa Vieni qua BAM! E qualche devo curarla adesso E toh Toh Anche tu Un altro colpo si Si ma cazzo Non è possibile che fa così male a questa stronza E invece si Guarda guarda lei arriva schiacciarla tu Eh ha dato un danno magico C'è ha dato un danno magico Che stile appunto Tu è tuo il Si lo so Il passo invadido Ottimo perfetto Il passo invadido ho preso E vediamo se la partita Non mi ricordano chi c'è Allora in top c'è Pankham noi Contro il loro team Si in bot abbiamo cassa di incontro Zed Il leader Cassa di incontro Zed E il jungla Ah Shack il jungla Eh ma loro chi hanno? Il loro è Caino Oh no mi entra dentro poi voi Mi entra dentro ragazzi Mi stupra Mi stupra PAM Guarda hai continuato a tirarmi quella Q di merda Vabbè dai stiamo indietro No mi sto sul cazzo Stiamo indietro Siamo sotto torre Siamo a posto Guarda tu che venga qua con tu Toh Una bella fucilata per te Tutta per te Brocchiamo la W Ok E qua cosa prende adesso? Questo minion con un bel colpo critico Guarda 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 Fa malissimo eh Stronza Eh ma perchè Mi merda Sona Si Ma l'inizio va bene Poi secondo me serve un tank Perché specialmente guarda L'ampia un pantheon Eh buildi Sona tank dai Tieni una sberla Eh si aspetta C'è un Tristana che non viene a picchiare Una volta che provo avvicinare Toh Ehi 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 Allontanati da me Ti devi essere allontanato Guarda che non ti fa niente adesso dai Guarda che ho preso Sona Guarda che ho preso Sona Guarda se non sono forte E tu hai il passo per il falso invalido? Si Per te da un palpetto anch'io? No Ecco vai, tuo Bene Ok La mia domanda è questa Dimmi tu Anche io voglio essere Sona Anche io voglio essere Sona Toh Toh Bene Bene La sto picchiando dai Se riesco ad attaccarla quando c'è un quarto colpo in carica Mi faccio tanto 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 male Ehtan Ancora Toh Sona Ma muori tu Ok Grazie dello scudo Dario Ah Merdo ho sbagliato Non volevo facciarlo del Perù Non volevo facciarlo del Perù Ehtan Presa Ok Guarda che fa male la cua Uccido il minion Ok Uccido due minion tipo Anche uno solo Ehtan Caino E coccoloso Aspetta Aspetta Guarda che li faccio male Cazzo Attento che c'è ancora Caino Ehh Stupido Bam Bantenda Si Spostati Spostati Toh Aspetta un attimo che vado a una sberla Vieni qua niente qua cazzo Vi ammazzo tutti Venite qua Hai una pozione Si Io ho usato la cura però non ce l'ho più Cioè non la pozione La F Si ho capito Ok Forse invalido tuo Qua faccio questi minion Perfetto Aspetta un attimo Ok Ok Perfetto bravo Tan Ah Ci hanno gancato E sono morti nel farlo E' morta Brut e stronzo Solo una Non importa Mi son preso la prima uccisione della partita Da più punti Si E pam Si Il primo assist cosa fa? Il primo assist niente E allora che merda Che brutto essere su Poi Adesso mi da botte Chiaramente Io do colpo critico alla torre Non faccio un cazzo Si colpo critico Colpo Colpo potentissimo O danaro E' il danaro Aspetta andiamo arrivare a livello 6 No no andiamo 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 Perché comunque sono Siccome loro hanno beccato Anche loro arriveranno a livello 6 Come noi O forse anche dopo Adesso mi prendo questo E mi prendo I stivaletti Bene Un'altra giornata per brown Sono contento Bene ragazzi L'altra giornata per brown No Eh però Timo Sembra che stia vincendo Il top Cazzo Con Pank Adesso lui ha la passiva attiva Si butta contro Tanto il primo colpo di Timo andrà a vuoto Ecco Ah no Cazzo Non è andata a vuoto Perché è un'abilità Sui top i bar Vero Eh vabbè Eh Però Shaco adesso Dove di gankare il mid Ce la fa No E' l'inferno Perché ha già la livello 6 Cassavi E' quel Cassavi champion Al flash incorporato Ah Bravi L'hanno ucciso Occhio Tuo Perfetto Bam Bam Aspetta che vado a mettere un boom No Non ce l'ho Non hai boom Guarda che come fanno bene Ok 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 Tranquillo tranquillo Non c'è un po' Cazzo Che Tuonate l'ho volato via Beristano Ci provi tra la stronza che arriva in culo No Quello è il problema Torno Io torno a picchiare Blocca la No Cazzo Sono quasi morto Non devo andare via Ma Non pensavo che potresti finire Eh io non avevo l'ultima Eh io sì invece Però ho sbagliato Vai 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 In base Che adesso arriva Kaino E ti ciulla Arrivo Kaino Vado in base Ha ragione di negare Meglio non rischiare Guarda guarda Zed che va a prendere Kaino Guarda Zed Zed livello 7 e contro Kaino Sono in 3 Dovrebbero uscire ad uccidere l'affagevolmente Aspetta vediamo Vediamo se lo uccidono Ma perché non ci vanno? Dov'è Zed? Zed Sta arrivando Oh ecco ultima Perché è l'altra per ultima adesso? Grand Shaco Non so cosa è successo Ma bravo Shaco Arrivo arrivo Sono di valo 6 loro due Si Allora prima Boh io arrivo subito Allora Quindi dobbiamo aspettare un attimo Prima di di flashare Si Ma che sto dicendo? Si Prima di ingaggiare Vai via da lì Vai via da lì Vai che ti picchiano Ma ho colpito un attimo un minion Adesso adesso mi vado a prendermi il 6 Ah tu il minion è un gigante lì eh Si lo sto aspettando per la parte Oh che paio di coglioni di quella donna Eh Non volevo colpire il minion Scusate Tranquillo Tranquillo Ok Ok Così Esplodo tutto Attiro la bellissima Q E faccio malissimo a Sony Hai visto che roba? Cazzo? Eh dai Sparato il minion lì Ok Mino Adesso C'è Shaco che forse vuole gancare No Sta prendendo tempo a scrivere Si è fermato a scrivere Pam Vieni qua Ah viene viene adesso Viene? Eh Si 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 ma andiamo Si ma eh Viene adesso ma eh Come in bot now Si ma Eh boh stiamo qua dietro Spediamo che loro avanzino Eh vabbè Metto un lume qua intanto io Non si sono neanche arrivato Eh no Andato via Eh perchè Ha cambiato idea Buono perchè volete stare andando a vola Però vedi ho paura perchè Cain ti sbunica fuori dei muri cazzo Eh lo so Non dillo ne Eccolo lì Si Cain e Shaco sono nel fiume Cain e Shaco sono nel fiume Eh è andato via Occhio 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 C'è stato che arriva il prossimo invalido adesso Si ho visto Ok ecco c'è E' l'eplante tutto in 2 Vai bravo Ok Un amico sto ucciso Bene Stiamo vincendo bene sta partita Eeee Quel Shaco lì è forte C'è che farà tutto contro lui praticamente Ok E bam Si andiamo a fare il dragon Dragon in a chest Oh a livello 7 tu Arrivo Arrivo Aspetta che qua metto queste Ecco Dai vieni vieni vicino Vieni Sei coraggio stronza Adesso la blocco la blocco la blocco la blocco la blocco la blocco subito Dai cazzo Dai no mi ha bloccato Ma Oh Oh io non l'ho uccisa perchè ha detto adesso No Presa 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 Perché l'ha sciolta adesso No Si è curata Eh si è curata Se non l'avrei uccisa eh Oh Ho fatto apposta a non colpire Sona Perché vedete così prende un'uccisione Eh ma non riuscivo a colpirla Ne ha regolabilità Eh non importa dai L'imparata di aver fatto l'uccisione Ok Ok Farsi invalido è mio Farsi invalido Grazie Dai cazzo Uccidi sta cazzo di torre Ottimo Perfetto 1400 Posso farmi l'oggetto o no Andiamo Però andiamo in base allo stesso Well played team GG Good job C'è cazzo di Gustavano in giù No Tornato là Eh Tengo questo Perfetto Così mi da un po' di colpo critico Ho visto che Jin funziona colpi critico Sì praticamente Dove sta andando? Cosa vuoi fare? Sì bot scusa Just getting kind Have you been playing kind for long? Ginger Sciacco si sta lamentando Si sta dicendo che Kain è scarso Ma perché si lamenta? Meglio Eh non bestemmiare No no bestemmiato Meglio Ho dato meglio perché scusa Eh Attenzione Zed Zed Niente Non ce la fa Aspetta che vado ad aiutarlo Uh 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 Andiamo a prendere Andiamo a prendere Eh che riesco a retasciare Sì ma mi viene di qua Guarda che stupido No Eh Eh la la No 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 Vabbè Mi fa andare su e giù come un idiota Tu sei idiota Grazie Well played team Well played Perché è stato well played team Ma ce la facciamo Guarda che Guarda che c'è un lume Devo darmi un colpo critico al lume Aspetta eh Eccoci qua Un bel colpo critico al lume Eh Don Don Bom Adesso Spadabam Adesso Andiamo in tappozzi del team Sì Una cosa orribile Ti ricordo che ha solo un colpo Per accecarci Ha solo un colpo? Per accecarci Si guarda Se lo uccide Shaco Vado Ah c'è caino c'è caino c'è caino Cazzo ha fatto un numero quel team eh Ma lo uccidiamo questo qui? Sotto torre? Vabbè Eh vabbè Pusciamo Vabbè pusciamo Eh mio minion Perfetto LMFO Facepalm Eh hai sbagliato tu eh Shaco Stun Che palle Sto buttando giù torre Che cosa fai nella partita? Ho buttato giù torre Aspetta un attimo Buttiamo giù sta torre adesso Che ora Aspetta che Ah io Oh oh Eh Oh no Ma che cazzo avete fatto? Ma sai cosa? Sto morendo Non ho capito perché lì Pantom mi ha seguito Un attento attimo Fuggi Bravo Metti lo scudo lo scudo lo scudo Vai via adesso però Cosa va andare? Vai via Vediamo Perché le tigate ho tirato l'ultima Perché le tigite Odio quella bestia orrenda Va bene? Va bene? Va che cazzo Ho talmente spaventato Che le tigate ho potuto Quella bestia orrenda Oh la torre botte La buttano giù adesso 12 4 il corpo l'ho fatta scappare ecco ti spara sto colpo ho andato ad aspettare 20 minuti perchè ti spara il quarto colpo non ce la fa la pistola pesante non è l'ultima hai paura di timo si sono stato impaurito da timo va bene guarda che l'ho bloccata guarda che palle di stasone dove cazzo è andato fuori sto qui vedi che tutti che escono dai muri e cazzo e cazzo ad incasciare dal muro e cazzo ad incasciare dal muro che palle guarda che la torre la buttano giù vabbè mi fa anche via oh basta però adesso tutti sti champion che escono dalle mura se te trasportano in continuo 425 mi serve per l'oggetto che palle non è un giuratore è meglio ecco lo so l'hai chiesto l'hai chiesto l'hai chiesto l'hai chiesto e poi attento caino c'è caino colpiscilo colpiscilo scusa l'hai chiesto io perchè l'hai qua? non l'ha fatta apposta l'hai tirato il colpo base? l'hai tirato il colpo base? eeeh Tony Tony e bam con l'hai chiesto sciacco o homebitch caino? cosa vuol dire homebitch caino? che lo intende? non lo intendo è c'è zerk che sta vincendo da solo la parola la sciacca pescino Boh vaffanculo, R è ora Bastardo Bam, si, il mio corpo supersonico No Cosa? Eh, sciacca, ho preso il funghetto Pensavo mi facesse più male Sinceramente, bene Bam, bam Bam, guarda adesso Bam, 464 No, sesto Eh, rompe il lume tu intanto Eh, io che rompo il lume Ti prego, ci metto 20 minuti A romperlo Aspetta un attimo, adesso lo hai colpito e questi E la blocco allora Non ce la faccio Eh, sì ce l'ho fatta L'ho bloccata, sì però sono troppo lontano Guarda che fai Uccisioni Ma non ho fatto apposta Guarda che il super ruba le kill Report Brown KS Stupid noob Bene Andiamo avanti Ho 1400 donari Cosa me ne faccio Questi soldoni qua Ehi Sì, l'hai vista Chi c'è qua? Ancora sti lumi Eh, caino Aiuto Aiuto tu Mardo Sciacco aiutami Sì ma tu Guarda se ho un support Che vada da tutt'altra parte Ma tu dove eri andato? Ho detto che andavi lì Ho detto che vado lì anch'io No, hai fatto il giro contrario Per confonderli Eh certo Hai confuso ormai però Eh comunque scusami Mi sono venuto tutti quanti colpito al sommetto Potevi ucciderli Ma cosa? Era Caino? Era da solo contro Caino? Sì, e io ero da solo contro Sona Timo E sei morto E quello cattivo E sei morto Sì Due, tre Vabbè, due, tre Ok, uno, uno Vabbè 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 Si stanno Si stanno insultando A sangue Tipo Mi servono 50 danali Ok Andiamo a uccidere A mostrare Vabbè Vado a uccidere questi Aspetto un altro Per colpirli Che facciamo un numero io adesso Aspetta Ok, perfetto Adesso o meno tutti No No, perché si sono spostati Sti coglioni Però non importa 1300 Bene Tre E adesso guarda Sbarabam Arrivo Guardate Braum ammazzadraghi E Jingleman Dissero Eh, lo schiedi Di far ammazzadraghi Comunque Ok Hai preso un altro danno Bene Ora che ho 262 di danno Se faccio il colpo critico Faccio tanto tanto male C'è Cassadino Dove? Mid Arrivo Cassadino Urgotto Il panzerotto Vieni qua Vorrei affrontarlo da solo Ma non posso Cassadino Non posso Da solo? Non posso Se lo faccio muoio Ok 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 Così mi piace Tira tipo le saccagnate Così Pam E scioltare il minion Quanto è bello Poi pam pam Ti prendi altri 30 40 di oro Così Bene bene Quanto mi piace un sacco Dove è andato? Dove cazzo è andato? Merda Non riesco a prenderlo L'hai preso? Sassona? Oh cazzo Che coglioni Eh senti un po' di questo Non posso No Hai visto cosa hanno fatto? Ci hanno fatto il Come si chiama quella cosa? Guarda guarda qua arriva il panteon Sei salvo Ci hanno fatto Come si chiama? Vai via il panteon Beh Come si chiama? Quello che ci stanno dentro Di cespuglio Guardalo Z Bene Che cosa offrivi la carta? Basta Non servirò più sciarco In vita mia Ogni volta Non ci ha portato dritti Dritti Nella morte Guarda guarda che sta arrivando Guarda 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 Dove sei tu? Appento a braun Non è più lo scudo? Attenzione sei morto Sei morto Guarda phantom Guarda phantom Dai phantom Dove è andato? Eh eh E qua 131 di potere magico Non è che tanto? Aspetta Ma non ci credo Sì Dai fargli male Dove è andato? È lì È qui Eh sì Certo Adesso ci sono anche gli altri Ecco Il funghetto di merda Oh madonna Ah va bene Aspetta Aspetta Lascio un po' anche a me Lascio un po' anche a me Grazie Grazie mille Niente Abbiamo perso sti due team fight Non è affatto bene No Non devo andare in giro da solo Ma che giro da solo? Sono qua E poi c'è phantom Arrivo Che potentissimo Ok Così 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 Bene Adesso cosa faccio con questo Sto girando la pistola Ah guarda che c'è lui Chi lui? No lui basta eh Prima mi ha portato dentro un cespuglio Pieno di gente Ecco il sumi tre lì Eh Sarà meglio andarsene Dove sta andando Zed? Passo Passo furioso E questo Sì Mia 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 Non ci credo Mia Se cazzo Ma sono un cecchino Porca puttana Vieni qua Sono Riuscite a prenderlo Verrà che lo blocco anch'io Bam No Cioè non ci voglio credere Ma che c***o ha avuto? Andiamo a buttare giù la torre sotto Per favore Andiamo a buttare giù Oh Kyle Oh aiutatemi Dove sta andando andando? Oh arriviamo Ah la torre Eh sì scusami Vabbè andiamo Sono tutti i minion qua Farò metterci poco Adesso arriva anche quell'altro Vedi che hai fatto bene Se ti è trasportato sul minion Che è stato colpito dalla torre Tan Tan Oh andiamo a fare il drago Dai vieni Arriva a fare il drago Aspetta no C'è il falso invalido Il falso invalido un attimo Il falso invalido mio Perfetto Ho fatto il falso invalido Ho 1300 Oh C'è il caino Vai via Vai via Vai via C'è il caino C'è pure Timo Aspetta Aspetta C'è il caino Tancoso Ha fatto quello Tancoso Sì Bene Ecco Sopra il minion Sta arrivando Caino Tancoso Sopra il minion Vado in base Perché ho donato Anzi no Aspetta Facciamo questo Ti mostro un attimo Mi serve fare così Arrivo a 1400 Grazie Vado in base Così 1400 Prendo questo oggetto Perfetto Attenzione Z deve scappare Ce la farà mai No No Eh Si teleporta No Oh 333 di danno Mi sono 50 di oro Maccati Mi sono 50 di oro Un momento Aspetta Ma cosa Per fare cosa Per fare questo 4 Per fare un'estretta magica Bam Dove stai In giro Da solo Bam Che da solo Guarda Oh sono io E la mia pistola Spara 4 colpi alla volta Spara 4 colpi alla volta Ma guarda cosa fa Guarda 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 Se non è potentissima La mia pistola La mia revolver Guarda che sono tutti Guarda Guarda che stronzi Guarda Guarda che ho capito Che siete lì dentro E ho capito Che vuole fare di nuovo Così come ha fatto prima Per portarci tutti Dentro la morte Uno qui Che stronzi Che stronzi C'è Caino Caino sotto Caino sotto Contropanther Caino 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 Dov'è E bloccata Perfetto Guarda Non ci credo Ciao C'è Ma cos'è Ho visto Quanta vita C'era salvato C'è Con uno sputo Del cazzo Proprio Definisci Sputo Del cazzo Sputo Del cazzo Lasciamolo stare Si lasciamolo stare Andiamo qui Basta Vaffanculo Che tanto Poli Si sposta Da tutte le parti Dai Buettiamo giù Sta torre Guarda Quanto devo Bam 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 Dai 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 Bene Così Sì Perché sono Vivi Questa Mi freddo Rosso Se c'è Dovrebbe esserci No Non c'è Vaffanculo Eh Ma che cazzo Ho fatto lo scherzo a Shaco Si hanno fatto Ho fatto lo scherzo a Braum Ma Scusi un attimo Quanti sono di ore Guarda te che devo Tirare un colpo Che toglie Tre quarti Anzi Il 99% Della vita Dov'è Eh Attenzione Oh ma perché non riesco a scolpirli Sì Perché se cazzo io avrà cercato qualcuno Guarda che cazzo di Dio mio Oh hanno rotto le palle i funghiati di primo Ho tanti soldi Io uccido Caino invece Anche io Dai 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 Lo colpisco una volta e lo blocco Bene Bloccato Dai cazzo Attenzione Arriva Timo E io vado via Vaffanculo Vabbè 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 Pagliamo Sei abbassata forte per salvarti Cosa? Non sei mica morto? Stavo dicendo Vai Shaco Sei abbassata forte per salvarti da solo E invece vai morto Non so se fare questo Prima Sì faccio questo Vaffanculo So che lo serve La verso d'attacco su Jin Ragazzi Però l'Archi Bujo Lo serve per dare il primo colpo Da molto distante E fa molto male Fa molto male Fa malissimo Quanto mi serve? Ancora 1100 danari Boh Vado a cedere un po' di mosche Allora Quanto ti aspetto Ti posso fare a questo L'ho sottato? Guardio Bom Ti rendi conto? La team mi vuole bene Vedi sei complimenti Sei stato strato per spendere 5 euro in più al mese Tan Tan Bam No Che fallo Ma che cazzo Mori Buon si temo questo Se li pusciamo Cosa facciamo? Vabbè pusciamo No Sto facendo soldi Stanno da prendere ZZZZ Aiutatelo Ma aiuto a Z Aspetta un attimo Sto facendo Uuuuh Che sberla Mi ha tirato Eh Lagone Che mi ha tirato a me invece Eh Ho ucciso Cain Con una sberla fortissima Però un po' Mi si è buttato contro Cassadin Cassadin mi dilana Cioè Non è morto? Non è morto Non ci credo Oh senti mi faccio il rosso Perché? Vabbè fallo tu Ma sono tutti morti Fallo? Ma glielo lascia loro? Eh non viene nessuno Uno sta tornando in base Pantheon è andato Autidrettimo E adesso torna a casa Potentissimo Posso avere 600 danari Puoi darmi un po' di soldi? No Ti chiedo un prestito Quanto? Quanto ho? 600 Mi serve Mi servono 30 danari 27 unità d'oro Vabbè aspetto ragazzi Aspetto 27 unità d'oro Corro Intanto infatti Fatti vedere il back Del Lijing luna di sangue Guarda che bello che è Uh Dragon infernale Infatti ha soldi Perfetto Andiamo Andiamo Rineganti Andiamo 32-12 Io sono fatto 5-5-8 2-2-10 2-2-10 5-5-8 Cos'è? Guarda Tristana che muore Andiamo in top Perfavoro Pusciamo in top E non lo rischi Ma possiamo vincere? Siamo sicuri? Penso di sì Allora andiamo Buttiamo giù In vitale di voto Perché sei così lento? Beh le scarpe queste qua Quelle che mi danno Velo stato di movimento Ci poto sì Perché sono più veloci di te? Perché l'oro Abbiamo vinto Perché si sono arresi Vabbè ragazzi Come prima partita Non è andata male Volevo fare altri video così Sono lunghi Ma Cioè È bella la saluta La partita secondo me Così vedete un po' tutto Brown Sangue freddo per Brown Grazie Ciao a tutti E al prossimo video